no sai che la sua ha passato no aspetta non è andata bene è ancora in codi, mi devo aspettare con Nex ma no, finché ne dai subito metti lui aspetta che arriva la musica infatti vedi che già c'è stato ah ma non sai che ieri ci hanno scritto ciao Francisca no non rimani è mio ma perché continui a metterlo là quando ce l'attacca panni ma anche fuori c'è ma non c'è che cosa non c'è connect sta in conking in conking ti stavo dicendo ieri ci hanno scritto semmi ieri io abbiamo fatto la missione sono solo degli altri aliati sono uscita in una lunga penitenza che c'è arrivato con una trasmissione con i piccoli invece il dopo ciclo di capricola semmi cresciava praticamente poi che a Dolorent a quel momento ha fatto le prove lo installava e non partiva vedete che ci hanno beccato il crack non funzionava più il crack e ma come fava? e ma ha rimesso il sem vecchio quello del 2011-12 ma ne c'è come cercanato questo che ha preso era l'ultimo sem nel 2014 era proprio lo studio pro che dobbiamo fare? quindi qua arriva il loop in realtà come funziona il loop? non lo toccare ti prego non me non me poi dopo mi facciamo ah e palumbo qui studio sabato? perché non ho messo le fotografie in questo qua io mi sto capace a fare che piace per quello Pietro San che ti ha detto sì prego se lo sapevamo facciamo dei nick se noi lo favamo boardwalk perché io conto ho vissuto due stagioni e mezzo no è finita il 25 è definitivamente finalmente perché sono cinque stagioni The Nick no The Nick devono fare la seconda stagione questo è quello che viene del collegamento ma ci ha messo in buto in buto ma che in buto in buto vabbè in buto senti com'è la pasta è paperini è sempre bella musica tutta la stagione la The Nick è bella come? la The Nick è bella comunque Pietro ti devo dire che è veramente è veramente fatto bene il coso quello quello l'hanno bloccato l'hanno bloccato l'hanno fatto l'hanno fatto la prima stagione no quant'era l'hanno l'hanno bloccato l'hanno bloccato l'hanno bloccato oppure il cazzo si chiama Black Mirror l'hanno bloccato la produzione oh e sto entrando 30 secondi cerca di Broadwalk Empire cazzo proprio anello hai qualche nome in codice di radio stefanella l'ho tutto attaccato insulto solo stefanella 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 è bellissimo ci siamo entrati 20 secondi stefanella stavo con il microfono aperto just thinking nada se desee se